Sì, c'è un'altra cosa che è in bocca. Ah, senza! Fabrizio, ma cos'è quella cosa che hai in bocca? Sì, c'è un'altra cosa che hai in bocca? Ah! No, ma c'è un'altra cosa che facciamo la bocca? Che schifo! Ah, hai detto! Umi d'acqua, umi d'acqua tutto il video! Sì, ma non lo so se c'è da bene. Veniamo se c'è in un uomo, ci facciamo vedere tutte le grazie. Tutte le grazie. Tutte le grazie sono piccoli da scuola, stamp! Ora ci monti io!